E' stata firmata appena qualche giorno fa, mettendo fine ad una situazione di disagio particolarmente sentita dai cittadini, una convenzione tra i comuni di Qualiano e Villaricca e la Regione Campania, per la concessione e l'utilizzo d'uso via abilità per il traffico veicolare della copertura dell'Alvio Camaldoli e parte delle sue pertinenze idrauliche in destra e sinistra, nel tratto ricadente nei comuni di Qualiano, Villaricca e Calvizzano. La via è comunemente nota come strada di candida, è uno snodo fra i tre comuni e da settembre 2012 era stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza, misura che ha creato forti disagi alla cittadinanza ed era divenuto argomento di interpretazioni e di etrologie. La copertura dell'Alvio de Camaldoli ricade nei comuni di Villaricca e Qualiano e la firma avvenuta presso la Regione Campania il 26 marzo scorso ne ha oggi autorizzato lo schema di convenzione per la concessione e l'utilizzo d'uso via abilità alternativa. L'area infatti è di proprietà del demanio dello Stato, ramo bonifica, gestito dalla Regione ed era stata avanzata al settore provinciale del Genio Civile di Napoli per una concessione unica. Aveva avuto esito positivo anche la verifica per la carrabilità limitatamente al flusso pedonale veicolare leggero, corredata dal controllo nel campo idraulico. Per la concessione gli enti interessati dovranno corrispondere alla Regione un canone pari a 633 euro annui. Tale convenzione avrà durata di sei anni, allo scadere dei quali, nel termine di un anno di anticipazione, si potrà convenire ad un rinnovo.